a tiri suo amore e a seguire Gianmarco Giovannini poi sarà il turno di Laura Marzili mi scusi, non ci pensa, non mi ero accorto Roberta, devo fare anche un po' di silenzio? ok i giorni non mi ero accorto ma non si tracciato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.